Non si può pareggiare il derby, è meglio perdere attraverso la possibilità di fare la storia, perché ogni palla è una guerra diversa da quella che fai ogni domenica, è straordinariamente diverso. Il coro è una volta, gli hai fatto male, ancora una volta, gli hai fatto male, ma lei 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 gli hai fatto male, pallonetto di Palo di Cagno sotto la curva su come 15 anni fa, ma lei è venire. Papadopo la cesta 11, acule, noi siamo acule vere. Meraviglioso, non me lo saremmo aspettato così bello. Questa gente mi dà una adrenalina, mi dà una tranquillità, come ho detto all'inizio della verità, con questa maglia non ci ho paura di niente. Che bellezza senti, affellatività all'altra parte, vecchio, un seraggio in piedi, è una goduria doppia. Oggi è per il popolo della Lazio e per tutta quella gente che non è potuta stare qui. È il tuo gol più importante nella Lazio, questo di questa squadra? Sì, perché è gustato, cercato, goduto, così quando l'ho fatto 15 anni fa era tutto distinto, è stato bellissimo, naturalo sto popolo e sto felicissimo. Ti sei un po' pentito di aver esultato sotto la curva, di essere uscito? Ma credo che gli altri hanno gioito quando il loro capitano abbessato un po' i Laziali e credo che faccia parte dello sfottoso e non ci arriva al limite della decenza dell'issuto. Io ho gioito, è anche una forma di spoco e credo che sia legittima, non ho fatto nessun gesto volgare, ho solo esultato da Laziale per questa vittoria e perché stavamo vincendo. Grazie. Grazie. Grazie.